Esiste una strategia per fare in modo di correggere un messaggio inviato tramite la famosa applicazione WhatsApp. Questo sistema istantaneo e veloce di invio e ricezione dei messaggi, scritti e vocali, oltre alle immagini, oramai utilizzato da molti. Ci stanno lavorando su questa interessante opzione che la piattaforma vuole concedere a coloro che la utilizzano da molto, dando quindi un servizio supplementare nell'invio dei messaggi istantanei. Ovviamente chi sta lavorando a questa cosa, si sta anche preoccupando della qualità delle conversazioni, un dato da non sottovalutare. In effetti sono mesi che WhatsApp sta lavorando a una funzione che faccia in modo di cambiare il testo di un messaggio dopo averlo inviato. Sicuramente un perfezionamento supplementare che la piattaforma vuole garantire all'utilizzatore e che agevola il mittente quando deve scrivere un messaggio, sapendo che poi potrà modificarlo. WhatsApp. Come correggere un messaggio mandato? Pixabay.com, accade che quando scriviamo un messaggio poi dobbiamo eliminarlo perché magari abbiamo omesso delle informazioni importanti che dobbiamo aggiungere oppure semplicemente perché vogliamo cambiare il testo completamente. A questo punto si clicca sul messaggio e si attiva la modifica, riscrivendolo in modo corretto. Quando si modifica un messaggio già inviato questo influisce notevolmente sulla qualità di una conversazione e soprattutto, attenzione a quelle che possono essere le truffe e agli inganni che sono sempre in agguato soprattutto quando si usa nostro cellulare. In particolare quando si usa WhatsApp i rischi ci sono sempre. Cosa accadrà con la nuova funzione IL portale Ua Beta Info sta lavorando tanto a questa opzione che sicuramente sarà molto utile per tanti utilizzatori. Sappiamo che la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp introdurrà un'etichetta alla quale avrà il ruolo di segnalare che un messaggio è stato modificato, in questo modo quindi è resa nota la modifica al destinatario. Quando si invia un messaggio e poi lo si modifica, il destinatario saprà che quel messaggio è stato modificato dal mittente. Questo è molto importante. WhatsApp Impressing sui social? Questa la nuova funzione https2.t Coppergram 8B954TN1F Informazione Scienza Chiocciola Infoit Scienza October 17.2022 Poi ci chiediamo quando questa interessante novità che tutti gli utilizzatori di WhatsApp stanno attendendo sarà effettivamente accessibile da tutti? Purtroppo al momento non lo sappiamo, non ci sono delle informazioni certe in merito, ma sicuramente stanno facendo molto lavoro per cercare di migliorare questa interessante opzione. Attendiamo quando sarà pronta.